Nel corso del congresso annuale EULAT sono state presentate due analisi dello studio SELET AXIS II sull'impiego di upadacitinib in pazienti con spondidite anchilosante e risposta insoddisfacente ai farmaci biologici. Abbiamo voluto approfondire l'argomento con il professor Giuseppe Lopalco che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera professore e grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi. Allora professore ecco vediamo diciamo a definire quale è stata la popolazione dei pazienti con spondiloartrite che ha reclutato lo studio SELET AXIS II. Sì lo studio SELET AXIS II è un trial clinico che ha avuto lo scopo di valutare l'efficacia e la sicurezza di un GIAAC inibitore, nel caso specifico upatacitinib, in una popolazione di pazienti affetti da spondilite anchilosante attiva. La spondilite anchilosante è una patologia reumatologica in grado di determinare un processo infiammatorio a carico della tolone e delle articolazioni sacroiliache che può condurre a una disabilità fisica se non opportunamente trattato. Uno degli aspetti importanti di questo studio è sicuramente la tipologia di pazienti arruolata. Di fatto i pazienti presentavano un precedente fallimento a trattamento con farmaco biotecnologico come agente anti TNF o anti interleuchina 17. Bene allora veniamo alla prima analisi che è stata presentata al congresso che ha monitorato l'efficacia e la sicurezza del GIAAC inibitore dopo un anno di trattamento. Come è stata condotta? Sì lo studio prevedeva sostanzialmente due fasi. Una prima fase della durata di 14 settimane nella quale i pazienti sono stati randomizzati in due bracci. In un braccio si somministrava upatacitinib una volta al giorno ed un altro braccio veniva invece trattato con placebo. Successivamente alla quattordicesima settimana i pazienti potevano entrare in una seconda fase nella quale entrambi i bracci erano sottoposti a trattamento attivo con upatacitinib per ulteriori 90 settimane. I dati di efficacia sono stati quindi analizzati alla settimana 52 quindi dopo circa un anno sia per i pazienti trattati in maniera continua con upatacitinib sia per quelli con placebo che switchavano ad upatacitinib alla settimana 14. Ecco allora veniamo ai risultati che sono immersi da questa analisi. Quali sono stati professore? I risultati dello studio sono molto interessanti e di fatto hanno dimostrato che alla settimana 52 circa il 74% dei pazienti trattati con upatacitinib e il 74% di quelli in placebo che erano passati nel frattempo a trattamento attivo con upatacitinib alla settimana 14 raggiungevano una risposta ASAS 40 che è una risposta clinica definita come il miglioramento per quanto riguarda alcuni parametri per circa il 40% come il dolore lombare, la funzione fisica, l'infiammazione e la votazione globale dell'attività di malattia percepita dal paziente. Sempre alla settimana 52 rispettivamente il 30% dei pazienti in upatacitinib e il 28% dei pazienti precedentemente trattati con placebo raggiungeva una malattia inattiva valutata mediante un importante indice clinimetrico definito dall'ASDAS. In aggiunta a questo i risultati in termini di sicurezza corroboravano alla settimana 52 l'ottimo profilo di sicurezza e tollerabilità di upatacitinib che era già stato identificato nelle precedenti 14 settimane di esposizione. Bene, allora veniamo invece adesso alla seconda analisi presentata al congresso che ha valutato un aspetto particolare, l'attività fisica nei pazienti con spondilite anchilosanti. Allora la domanda che le faccio è perché è stata condotta a questa analisi e quali sono stati i principali risultati emersi? Sì, sappiamo che l'attività fisica può migliorare i sintomi dei pazienti affetti da spondilite anchilosante e di fatto è raccomandata nella gestione di questa tipologia di pazienti. Pertanto l'obiettivo di questo studio sostanzialmente consisteva nel riportare l'aderenza da parte dei pazienti nell'utilizzo di un dispositivo actigrafico da polso impiegato per valutare l'attività fisica nei pazienti con spondilite anchilosanti attiva che erano stati arruolati appunto nello studio SelectAxid 2. I risultati hanno mostrato un'elevata aderenza nell'utilizzo del dispositivo da parte dei pazienti che era pari all'83,5% durante le 14 settimane di osservazione. Inoltre dallo studio è emerso un altro dato significativo, in particolar modo che una minore attività fisica era generalmente associata ad una peggiore disabilità fisica e ad un cattivo stato generale di salute che venivano valutate ovviamente al basale. Questo studio pertanto suggerisce che cosa? Che l'utilizzo di tali dispositivi, di tali device tecnologici e elettronici può essere vantaggioso per valutare l'impatto del trattamento sull'attività fisica e sui parametri di abilità funzionale di questi pazienti affetti da tale patologia. Bene, ecco professore, prima di avviarci alla conclusione di questa intervista, lei volevo però chiedere anche di un'altra presentazione, ma veramente poche parole. Sono stati presentati infatti dei dati di efficacia e di sicurezza di upadasiglim anche in pazienti affetti da spondiloartrite assiale non radiografica. In estrema sintesi cosa è emerso da questa analisi? Sì, i risultati dello studio Seleaxi 2 condotto su pazienti con spondiloartrite assiale, quindi ci riferiamo a una seconda fase dello studio, quindi spondiloartrite assiale non radiografica, hanno dimostrato che un maggior numero di pazienti alla settimana 52 raggiungeva una risposta ASAS 40, una bassa attività di malattia ed una malattia inattiva valutate sempre mediante l'ASDAS. Inoltre gli effetti del trattamento si è visto che sono stati più pronunciati nel sottogruppo di pazienti naiva biologici rispetto a quelli che avevano presentato un precedente fallimento a farmaco biotecnologico. Anche per quanto riguarda questa seconda fase dello studio Seleaxi 2, nessun nuovo rischio per la sicurezza è stato identificato a seguito dell'esposizione a UPA nel lungo termine ad un anno. Bene, allora professore, alla luce dei dati che ha presentato, cosa ci dicono quindi i risultati delle analisi degli studi Seleaxi 2 e qual è il place in therapy di UPA da Citi nel trattamento dei pazienti con spondilite anchilosante? Sì, globalmente possiamo quindi trarre le conclusioni e dire che UPA ha dimostrato un'efficacia rapida e sostenuta fino alla settimana 52 mediante il raggiungimento di outcome clinici rigorosi come la bassa attività di malattia o addirittura la remissione clinica nei pazienti con spondilite anchilosante attiva che, ricordiamolo, avessero fallito precedenti trattamenti con agenti anti-TNF o inibitori dell'interleuchina 17. Inoltre UPA da Citi Nib dimostra pertanto di essere una valida alternativa terapeutica nel trattamento della spondilite anchilosante attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale. Questo Giac inibitore ha inoltre dimostrato di essere generalmente ben tollerato in assenza nel lungo termine di nuovi segnali relativi al suo profilo di sicurezza.